5 stelle, vediamo, la Brebè mi uccide, Movimento 5 Stelle e stiamo qua a preparare il banchetto. Ecco gli attivisti, Enrico che ieri è stato sentito da 3 miliardi di persone su Movi Radio, no 2 miliardi, mancavano 2 perché noi non potevamo ascoltare. Mi raccomando scrivete mi piace su Movi Radio, come minimo. Guardate la bandiera, no no ma le gambe si, intanto per poterlo prendere devo alzare l'acqua in quadratura. E poi Brebè mi cambiamo traffico, prima che il traffico cambi la città. L'apre bene in uoce, sala salute, non fatti soffocare. Dove lo attacchiamo? Ok. Vediamo se si dice, ah altri attivisti stanno avvicinando, buongiorno, saluta. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, questo è il mio video. Facciamo i nostri cartelloni, i nostri striscioni. Ah, gli striscioni. Aspetta no, facciamo così. Vediamo gli striscioni. Lo facciamo, uno tiene l'altro scrive, Manu. Vediamo, allora ragazzi, vediamo la preparazione di uno striscione. Manu, hai aiuto davvero? Ho detto che dopo gli portiamo il posto del piede. Manu? Dove che siete andati? Manu, dove siete andati? No, più che la bella caligrafia. Non si dice bella caligrafia. Anche Enrico che ha detto che ha fatto la scuola a casa. Dai Enrico, fanno tu. No, perché la bombola non scrive così. E come sai scrivere a noi? Eh, zia, così. Aspetta prima che scrivono su di me. No, anzi, lascialo di me. Allora, Sara, vieni, ti faccio. Fermi il signore Piafino. Fermi il signore Piafino. Fermi il signore Piafino. Fermi il signore Piafino. Adesso finisco qua il video, poi continuo dopo. Tanto vediamo la creazione. Raccolta firme contro prebemi. Sarebbe utile e carino anche poterlo togliere. Sì, dai, andiamo sulla cosa. Lo scriviamo. Non riesce ad aprirlo? Raccolta firme contro prebemi. Minchias. Ci vuole forza bruta. Raccolta firme contro la viabilità di Sagrada. Per prebemi il 1990 si narra, anzi, firma contro prebemi. No, vabbè, controllo. No, vabbè, è il traffico che vai contro. Non è che vai contro la viabilità. Prebemi il firm per tutelare la tua salute. Cioè firme per tutelare il segreto dalla viabilità. E' troppo lungo, deve essere una roba... Firma per la tua salute. Firma per la tua salute. Firma per la tua salute. Gris per la tua salute. Grazie.